A Favara, nei locali del Farm Cultural Park, da domani, giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre, si svolgerà la quarta edizione della rassegna cinematografica Farm Film Festival. Alla Festival internazionale di cortometraggi saranno più di 40 le opere in concorso, provenienti da 15 paesi in tutto il mondo. Le proiezioni iniziano ogni sera alle ore 21. Le prime categorie sono 5. Il premio in denaro ammonta 1000 euro e sarà decretato dallo staff di Farm Cultural Park, capitanato, come sempre, dai fondatori Andrea Bartoli e Florinda Saieva. Per le altre categorie sarà all'opera una giuria di professionisti, composta da Luigi Roberto Mula, Gero Miciche, Riccardo Gazziano, Peppe Manno e l'attrice Barbara Capucci. Sono tre gli ospiti speciali durante le serate, Maricetta Lombardo, due volte vincitrice del David di Donatello, con i film Gomorra e Dogman, entrambi di Matteo Garrone. L'attrice Selene Caramazza, molto giovane e con esperienze importanti, in alcuni film della RAI, tra cui il Commissario Montalbano e il film Cuori Puri. E poi la Iena Ismaele Lavardera, che presenterà alcuni spezzoni del suo documentario Il Sindaco, l'incredibile storia della sua candidatura come sindaco di Palermo, vissuta da dietro le quinte. Il direttore artistico è il regista grigentino Marco Gallo, che commenta «Sono molto contento del lavoro svolto fin qui. Il livello dei cortometraggi è aumentato di anno in anno e ci rende orgogliosi poter ospitare o proiettare opere che hanno vinto i David di Donatello e il Festival di Cannes o Venezia. Quest'anno, inoltre, avremo il piacere e l'onore di avere tre ospiti speciali come Maricetta Lombardo, Ismaele Lavardera e Selene Caramazza, tre siciliani che portano in alto il nome della nostra terra. Ci tengo particolarmente a sottolineare la presenza di Maricetta, perché vincere un David di Donatello nel cinema è qualcosa di straordinario. Vincerlo due volte è veramente storico e noi del Farm Film Festival vogliamo omaggiarla come si deve. E ascoltiamo in proposito adesso lo stesso Mario Gallo. Il Festival è giunto alla sua quarta edizione. Io sono molto contento anche quest'anno del risultato che abbiamo ottenuto, perché sono arrivati più di 450 cortometraggi da parte di 50 paesi in tutto il mondo, quindi è un risultato sicuramente molto importante per noi, molto importante per il Festival, ma anche per la città, per Agrigento e provincia, perché si svolge a Farm Cultural Park dal 29 di agosto a domenica 1 di settembre. Ed è importante perché in provincia c'è molto poco di cinematografico, c'è il Festival di Sciacca, ma ad Agrigento non c'è un vero festival, quindi sono contento di aver fatto questo festival quattro anni fa. Quest'anno il livello è molto molto alto, ci sarà il vincitore del Festival di Cannes, ci saranno i finalisti dei David di Donatello, e poi ci saranno tre ospiti speciali quest'anno, l'attrice siciliana Selene Caramazza, che avrà secondo me un futuro molto rosio in ambito cinematografico, la Iena Ismaele Lavardera, che presenterà il suo documentario Il Sindaco, interagirà con il pubblico, e poi avremo Maricetta Lombardo, che è due volte premio David di Donatello, il premio più importante che c'è in Italia, e quindi sono veramente onorato di poterla premiare, di poterla omaggiare perché se lo merita. Le serate inizieranno alle ore 21 nel giardino di Farm Cultural Park, ripeto le date dal 29 di agosto all'1 di settembre, e quest'anno la qualità è veramente altissima, siamo contenti e non vediamo l'ora di cominciare.